per summer party un altro grande personaggio mister ax si sono io ciao a tutti ciao zio ciao zio bella serata io sono passato di qua volevo dirti due paroline sul singolo che perché è appena uscito un tuo singolo che voglio conoscere anche parte della tua band parte della produzione perché sono qua tutti con te questa sera si chiama io e ti presento il mio vieni che vieni buonasera ben arrivato io sono rainbow rainbow cosa fai tu io e te allora io sono il featuring nella canzone io e te con mister ax mi raccomando tutti online vi voglio mentre abbiamo un altro collaboratore che è il producer il grandissimo dj scisa scisa ben arrivato bella raga bella raga cosa vuol dire produrre mister ax produrre mister ax produrre un brado per lui è veramente un artista cioè arriva lì con le idee già bene chiare e dopo sì nel giro di poche ore comunque però tu sei giovanissimo produttore a quanti anni io sono di 29 anni però comunque lo faccio da 13 anni circa complimenti parliamo di questo io e te io e te è un hit per l'estate e sicuramente sta funzionando e funzionerà e zio ascoltala io e vi ascolto ma dove vi so che siete molto social dove vi possono rintracciare alla instagram mister ax rainbow official con la x al posto della o mi raccomando dj underscore scisa che sicuramente non lo sapranno dj la trattino quello basso andrew scisa scisa come si pronuncia s h e e z h stica un tuo video mentre canti il ritornello al mare si promesso lo farò ma adesso il ritornello cantatelo voi per le come la delle ragazze che ci seguono da casa io e te abbracciati sotto il sole un amore da sognare ok ascoltatelo e adesso basta ve l'ho data a comprare lo ascoltate e soprattutto interagite con loro grazie ragazzi su spotify su itunes dappertutto su tutte le piattaforme migliori italiane mi raccomando io e te io e te io e te con la e h finale e h finale grazie ragazzi buona estate ciao 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 ciao